Ciao a tutti, in questo video voglio presentare una poesia di Oscar Wilde, la ballata del carcere di Reading. Allora, prima della poesia però iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Termasco, iscriviti al canale e iscriviti al nuovo canale Felicità Benessere di cui ti posto il link in descrizione. E veniamo alla poesia. Eppure, ognuno uccide la cosa che ama, tutti lo devono sapere, c'è chi lo fa con uno sguardo e chi con le lusinghe. Il codardo può farlo con un bacio, chi ha il coraggio usa la spada. Molto bella e reale questa poesia, spesso crediamo di amare qualcuno e poi, diciamo, vogliamo anche distruggerlo però. Eros e Zanatos spesso si uniscono. Per questo video è tutto, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Termasco, iscriviti al canale e iscriviti al nuovo canale Felicità Benessere di cui ti posto il link in descrizione.